Pietro ASMR Detto questo, iniziamo subito con la prima tecnologia Direi di partire dal classico Perfetto 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 No, abbiamo iniziato a fare le file per una questione di fragidità Pragidità Abbiamo messo a confronto i suoni di due luoghi magnifici Il mare e la montagna Scrivete qui sotto nei commenti Quali E i suoni Del luogo Che secondo voi ha vinto a fermare Ma io non so, non so parlare Quando È stata La prima volta che hai sperimentato l'ASMR Allora La prima volta che No 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 Oggi È lunedì In realtà Oggi che sto registrando questo video È martedì Il 18 Agosto Solo che voi lo vedrete Lo vedrete Lo vedrete E Questo Non lo vedrete Ok E Perché io Quando voi state vedendo Madonna Ma non so parlà Salve 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 No No Un Anche Un 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 Ciao a tutti ragazzi Come va Spero tutto Si vede quello bianco Oh Così è perfetto Rifacciamolo Come va Spero tutto Super 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 bene E lo stomaco Vabbè Io direi subito 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 di cominciare Buon ascolto No No Sto raffrettore Mentre si cammina Oltre a incontrare Ma che sto dicendo? Che palle! Le spiego un po' Quello che facciamo noi Cioè quello che facciamo noi sì Il mio team Per dare al massimo No Non lo porto da molto Ce l'avevo portato sul canale Ma ho scelto di farlo Con il microfono Blu Niente Cos'è che non avevo fatto? Ma non so parlare! Allora Sa cosa facciamo? Aspettiamo che si stacchi lo scotch Siamo qui con un nuovo video E sarà un genere di video che non porto da tanto Ovvero un video Tappi 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 Benvenuti E non me ne ho Fiti Ma perché? Ringraziarvi per il loro supporto Aggiunti Ovviamente Se anche voi volete supportare Molto gentile canale C'è lì In descrizione Per abonarvi Oppure Per acquistare qualcosa Tra me del mio ring Oggi No Non posso registrare Io ringrazio ancora Marco a SMR Per questa Magnifica Magnifica Credo Di Aver fatto davvero Tanta Esperienza SMR Eccoci qui Con Un altro suono Di montagne Un altro suono Che I montagne Questi Sono pietre Pietre Anche Molto più grandi Possiamo dire Ciao a tutti Ragazzi Come va Mi passiamo un po' così Così va bene Quello mi tocco i balli Dai ma vaffanculo Giorna Giorno Terima Grazie a tutti.